Ultimo giorno in regime di zona arancione in tutta Italia. Da domani infatti tornerà la zona rossa prevista nel DPCM Natale dal giorno 31 dicembre al 3 gennaio. Saranno nuovamente vietati gli spostamenti anche all'interno del proprio comune di residenza, salvo per comprovate esigenze lavorative o di salute. Serrante abbassata per gli esercizi commerciali, eccezione fatta per negozi di beni alimentari e di prima necessità. Intanto continua il rifornimento del nostro paese di dosi del vaccino Pfizer. Sono atterrati in nove scali da nord a sud le 470.000 unità del farmaco anti-covid. Dagli scali partiranno scortati i furgoni con i box contenenti le fiale, che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione nelle varie regioni. Anche la Campania è pronta ad attivare il piano vaccinale. La regione con i suoi 27 centri è già pronta per la fase 2 delle vaccinazioni. Le primissime dosi potrebbero arrivare entro oggi, mentre altri 35.000 vaccini giungeranno da domani al 2 gennaio. La distribuzione delle varie dosi ha subito ritardi in tutta Europa, a causa del maltempo che sta sferzando i paesi comunitari. Parte dei vaccini giunti a Napoli sarà inviata anche in Calabria e Basilicata. Presto anche la città di Torre del Greco potrà contare sulle prime fiale del farmaco Pfizer-BioNTech. I dati relativi al contagio nel comune Corallino restano stabili. Nella giornata di ieri attestate i nuovi 10 casi di positività e 8 guariti. Un sospiro di sollievo per quanto riguarda il numero dei decessi, dopo le 5 vittime registrate soltanto nella giornata di lunedì 28 dicembre.